La sinusite, la rinosinusite, diciamo generalmente, è un'infiammazione delle fosse nasali e delle stanze associate alle fosse nasali, cioè i seni paranasali. È un'infiammazione della mucosa e la si riconosce perché quello che è un banale raffreddore che dura generalmente una settimana, nelle forme di rinosinusite viene prolungato fino a durare 3-4 settimane o nelle forme croniche diversi mesi. Senz'altro le rinosinusite, nelle loro fase acuta, sono secondarie a un'infezione virale, poi complicata dai batteri che prolungano l'effetto di questa infezione infiammazione. Però esistono altre forme di sinusite, specialmente le forme croniche, che affliggono maggiormente i pazienti. Queste hanno alla base un'infiammazione immunologica, infiammazione immunologica che è comune ad altri disturbi come l'asma bronchiale, la poliposi nasale o le dermatiti eosinofili o le esofagite eosinofili. Tutti sintomi e cortei sintomatologici che fanno parte di questa infiammazione immunologica che porta alla cronicizzazione delle forme rinosinusitiche.